Dota numero 46 di Overtime, ben ritrovati amici dell'Hockey, ecco noi il direttore tecnico del Milano Quanta, Ricky Tessari, siamo in pieni playoff, il tabellone si è allineato alle semifinali, allora vediamo quello che è successo fin qui con il primo turno che ha qualificato le quattro migliori squadre alle semifinali, come dicevamo Milano-Ferrara 2-0, le serie lo sapete erano al meglio delle tre partite, Verona ha battuto Real-Torino 2-0, Vicenza-Padova 2-0, l'unica serie più combattuta è stata quella tra Cittadella e Asiago 2-1, Ricky sulla carta è andato tutto come previsto, le migliori quattro della regular season passano il turno e direi anche come previsto la serie più complicata è stata quella Cittadella e Asiago, perché Asiago ha venduto cara la pelle. Sì, le quattro qualificate alle semifinali erano quelle un po' diciamo così, in che alla vigilia erano le maggiori accreditate per questo tipo di posizionamento, per quanto riguarda i quarti di finale, Cittadella e Asiago poteva essere quella appunto che poteva riservare qualche piccola sorpresa, comunque alla fine il Cittadella l'ha spuntata, credo anche grazie alla maggior abitudine a giocare comunque partite di questo livello. E quindi in virtù di questo primo turno di playoff abbiamo adesso le semifinali al meglio delle cinque gare, cambia la distanza ed è Milano-Verona-Vicenza-Cittadella, quindi Milano-Verona è sicuramente una sfida da non sottovalutare, anche perché in campionato una vittoria per parte, è vero che voi forse a Verona avevate un po' alla testa Retel, ma in ogni caso è una squadra altalenante, ma quando è al meglio può mettervi in difficoltà, soprattutto in casa. Sì, Verona è sicuramente una squadra da non sottovalutare, tra l'altro è una delle due squadre che nel campionato quest'anno ci ha battuto insieme a Cittadella, quindi non la sottovaluteremo. In casa loro forse hanno qualche piccolo vantaggio arrivante dal fatto di conoscere la pista, che è assolutamente diversa rispetto alla nostra, però questo non ci impedirà comunque di partire determinati e portare a casa il risultato finale. Vediamo sempre con l'ausilio della grafica il programma di queste semifinali per quello che riguarda il Milano. L'esordio, mercoledì 25 aprile alle ore 19 al Quanta Club, gara 2 in programma alla Vesani di Verona sabato, gara 3 l'1 maggio ancora al Quanta Club, ancora alle ore 19, poi l'eventuale quarta partita a Verona il 5 maggio, l'eventuale quinta l'8 maggio ancora. Ovviamente a Milano che sapete ha il vantaggio della pista per tutti i playoff essendo arrivata prima in regular season. A che punto è il Milano dopo la serie con Ferrara che è servita credo anche per ritornare diciamo nel ritmo giusto dopo lo grande sforzo di Retel che aveva un po' condizionato credo la ripresa perché a livello sia di energie mentali che fisiche avete dato tutto lì. Quindi Ferrara credo che l'abbiate scelta anche meramente per un discorso di classifica all'ottavo posto, in teoria la più debole, per rientrare a ritmo credo. Sì, diciamo che comunque lo sforzo profuso in quel di Retel si è fatto un po' sentire quantomeno nel primo tempo di gara 1 contro Ferrara. Ora adesso la squadra si sta riprendendo, ha avuto anche qualche giorno di riposo, ha ripreso ad allenarsi tranquillamente quindi direi che dal punto di vista fisico, mentale, motivazionale siamo al meglio assolutamente. I ragazzi non vedono l'ora di iniziare questa semifinale perché comunque hanno voglia di perseguire questo ultimo obiettivo, tra l'altro importantissimo per noi. Sempre il più importante. Vediamo però quello che è successo nei quarti di finale, quindi le due sfide vinte dal Milano sul Ferrara. In mezzo a cercare il taglio e la deviazione di Ferrari, poi arriva sul rimbalzo proprio Bellini. Ferrari, Lettera, Bellini, c'è Belcastro davanti alla gabbia, non serve perché è il gol di Lettera. Banchiero che va a fintare, conclude dal bene, rimbalzo, gol, Delfino. Delfino chiama il disco, un'autostrada per lui, Delfino, gol. Banchiero, sbaglia Banchiero, Ponte Corvi contro Mattia Mai, gol. Negli ultimi minuti si sta pericolosamente disunendo e qui arriva la beffa per Dal Ben. Banchiero a far for checking vincente, Banchiero, gol. Brian Bellcastro, una vittoria evidente, ok, non c'erano dubbi, anche se nel primo tempo a dire il vero Ferrara comunque è un minimo, vi ha messo in difficoltà. Però ecco, quello che si voleva evitare in questa serie era magari cadere in problematiche relative, infortuni o squalifiche. Purtroppo anche in questo giro c'è stato un po' di nervosismo. Ci siamo cascati, come ho detto abbiamo fatto la frittata. Adesso spero che Uele magari una giornata sì, però è stato provocato, voglio dire solo questo. Però l'ha presa, ha fatto la frittata, niente, la portiamo a casa. Abbiamo parlato prima della partita appunto di non fare sciocchezze, l'abbiamo fatta, ma capita sempre, si parla sempre di hockey. È andata bene, forse un po' più sofferta rispetto a quello che ci aspettavamo, sarà stato il roster un po' più corto rispetto alle altre partite, poi ovviamente la seconda partita di quarti di finale, loro erano dentro fuori, quindi ci hanno dato l'animo. Però vabbè, l'abbiamo chiusa, è bene così, si punta alla semifinale. Abbiamo visto anche le interviste dopo partita, in particolare dopo gara 1 ho sollecitato Belcastro su il fattaccio, chiamiamolo così, di quella mezza rissa che poi è costata due turni di squalifica a banchiero, che infatti salterà anche gara 1 con Verona. E dicevamo con Brian, era proprio quello che si voleva evitare, però è difficile, tu sei stato ovviamente hockeyista tanti anni, sempre riuscire a non reagire. chiaro, il ragazzo va poi punito dal giudice sportivo, ci mancherebbe, capisce sicuramente di aver sbagliato, però in quel momento lì a volte è difficile. Allora, da ex giocatore non posso confermare ciò che dici, che quando sei in campo è difficile, però devo dire che comunque, qui si parla comunque di giocatori con grande esperienza, sapevamo che poteva esserci questo tipo, diciamo, non di problematiche, però abbiamo visto anche durante il campionato qualche screzzo c'era stato, quindi eravamo preparati, dovevamo evitarlo, tra l'altro se non sbaglio mancava forse poco più di un minuto alla fine, quindi diciamo che siamo un po' caduti in maniera piuttosto veniale in una, quello che poteva essere una provocazione, ecco, avremmo potuto assolutamente evitarla, sarebbe stato sicuramente molto meglio. Sicuramente però rivedremo banchiero carico più avanti nella serie, adesso introduciamo il servizio che riguarda le altre partite, quindi tutte le altre sfidanti, abbiamo già detto i risultati, volevo chiederti tornando un attimo su Cittadella, perché comunque è un tema che nel mondo dell'hockeyline ovviamente è da prima pagina, purtroppo la squalifica di Tobia Vendrame è adesso ridotta fino a novembre, poi vedremo se ci saranno ulteriori strascichi, non compete a noi adesso sapere come andrà a finire, certo è, e qui te lo chiedo da sportivo, perché lasciamo stare il fatto che un Cittadella senza Vendrame perde molto, però è un peccato e speriamo che questo ragazzo sia gestito nel migliore dei modi e che possa tornare, perché comunque è un patrimonio per l'hockeyline italiano. Sicuramente Vendrame è, come dici tu, è assolutamente un patrimonio per l'hockeyline italiano, scusa, io non conosco il fatto, perché come molti altri non lo sappiamo, quindi ci limitiamo solamente a leggere quello che è stato il dispositivo della giustizia, adesso abbiamo visto che è stato ridotto, quindi da questo punto di vista ci sono pochi commenti da fare. Cosa possa essere successo? Lo stesso ragazzo, forse appunto, visto appunto l'importanza che rappresenta lui per l'hockeyline italiano, dico io questo mio parere personale, magari centellinare un po' di più, diciamo, quelle che sono anche i suoi impegni, io ricordo che forse un paio di anni fa, credo che abbia fatto quasi 100 partite, che vada bene giocare tanto per migliorare e crescere, su questo non ci piove, dall'altra parte però forse insomma un ragazzo ancora giovane, magari dargli anche la possibilità ogni tanto di tirare il fiato, credo che possa non far male. È sicuramente un lavoro difficile quello della gestione dei ragazzi a quell'età, è vero abbiamo sempre detto non si deve giocare poco, si deve giocare tanto, però non bisogna passare da un estremo all'altro, giustamente quello che hai detto tu ovviamente perché Vendramme gioca ancora in under 20, fa tantissime partite comunque, anche qui come abbiamo detto di Banchero, il ragazzo evidentemente ha sbagliato anche se non abbiamo visto la immagine, ma è un patrimonio, ci auguriamo tutti di rivederlo a più presto in pista, allora vediamo quello che è successo nelle altre serie dei quarti di finale. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inoltre quest'anno abbiamo aggiunto anche l'Hockey Day che è stata una giornata a conclusione di questo progetto dove abbiamo coinvolto tutte le classi che hanno aderito e che sono venute a trovarci qualquanta facendo una giornata dove l'Hockey era protagonista. Quindi dove c'erano gli istruttori in pista hanno fatto provare i bambini, le famiglie sono state coinvolte, hanno visitato il centro e possiamo dire che più di 60 bambini hanno in qualche modo aderito a questo progetto quindi ci ha fatto molto piacere. E' stato bello anche vedere i campioni proprio del Milano Quanta, anche bravi nel ruolo di insegnante. Esattamente, sono diventati coach proprio per un giorno. La novità di quest'anno sarà anche il camp specialistico sull'Hockey. Allora, abbiamo deciso quest'anno di proporre un nuovo tipo di camp che è appunto specialistico sull'Hockey che sarà dal 2 al 7 luglio. Ci sono ancora dei posti disponibili quindi ci si può ancora iscrivere e sarà proprio una novità che proporremo quest'anno per coinvolgere ulteriormente sia i ragazzi delle giovanili che anche altri bambini, nuovi bambini, in questo sport anche nel periodo estivo. Riky, in chiusura, nelle prossime settimane vivremo ovviamente il momento clou della stagione agonistica per quello che riguarda i club. Poi inizia la grande stagione delle nazionali con i mondiali anche quest'anno Asiago e Roana, però le società hanno dei tempi diversi nel senso che quando si tratta di, tu lo sai bene, di programmare, ricerca di sponsor, sapere il format per coinvolgere anche per le piste, per gli spazi, eccetera. C'è il rischio che si vada alle calende greche anche quest'anno, visto tutti gli eventi agonistici che ci sono? Io spero di no, perché purtroppo il richiamo storico a due anni fa, quando ci furono i mondiali appunto ad Asiago e Roana, si arrivò veramente lunghi in maniera assolutamente inappropriata. Qualche mese fa si vociverava sul fatto che entro fine marzo poteva arrivare al settore tecnico della federazione una bozza di quello che poteva essere linee guida per l'anno prossimo. Oggi ormai siamo a fine aprile, non c'è ancora nulla, le società non sono state ancora così interpellate. Questo inizia un po' a preoccupare, perché comunque ribadisco siamo a fine aprile. Tutti sappiamo che ci vuole del tempo per programmarsi, fare della planificazione, chi ha bisogno di prenotare palazzetti, studio e quant'altro, ma soprattutto per muoversi per tempo per la ricerca di sponsor, comunque di partner e quant'altro, è impensabile pensare di poter approcciare questo tipo di tema nei mesi di luglio-agosto quando appunto le aziende sappiamo benissimo che sono o ferme o comunque già intasate, proiettate verso quelli che sono i budget di settembre-ottobre e quindi è impensabile poter pensare di lavorare in quel modo o in quel periodo. Noi spieghiamo che questo tipo di situazione si possa sbloccare a brevissimo, perché comunque è indispensabile poter programmare per tempo. E quindi va bene il focus ovviamente sull'attività dei club e della nazionale, ma che dietro le quinte si lavori per tempo, come diceva giustamente Ricchi Tessari, che ringraziamo per essere stato nuovamente nostro ospite, questa puntata termina qui, la prossima la registreremo al termine delle semifinali.